Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlo dell'Osprey Atmos AG50, uno zaino enorme ma che mi piace definire lo zaino più regolabile, più personalizzabile al mondo e adesso scopriamo insieme il perché nella recensione completa. Inizio come al solito a parlarvi del peso di questo Osprey, completamente vuoto lo zaino nella taglia SM da 50 litri pesa 2,1 kg, invece nella taglia LXL che è da 53 litri pesa un centinaio di grammi in più. È un peso abbastanza alto, nel senso ci sono zaini stesso litraggio che pesano 400-500 grammi in meno, ma adesso vediamo insieme dove vanno a finire questi 400-500 grammi in più. Come al solito iniziamo dallo schienale che è la parte anche più interessante di questo Osprey Atmos. Schienale innanzitutto regolabile, regolabile su diverse altezze grazie alle clip presenti che possono farci alzare e abbassare gli spallacci. E per quanto riguarda il sistema di areazione troviamo il sistema Airspeed che abbiamo già visto sull'Exos, sul fratello Exos. E che dire, io mi sono trovato davvero molto molto bene. È un sistema fatto completamente a rete che ci tiene lo zaino ben separato dalla schiena e utilizzato anche in giornate veramente molto calde, la traspirazione è ottimale. Non ho mai avuto una sudorazione eccessiva. Ma il punto forte di questo zaino, che viene riportato anche all'interno del nome con la sigla AG, è la tecnologia anti-gravity di Osprey, ovvero la tecnologia che ci permette di andare a scaricare il peso. Innanzitutto, come potete vedere, la cinghia lombare è pretensionata e già questo ne garantisce è sicuramente un miglior scarico del peso. E per quanto riguarda proprio lo scarico, allora questo zaino, non so ricordo male, è certificato fino a una ventina di chili. Osprey dice fino a una ventina di chili non avrete problemi. Io ho voluto provarlo con abbastanza chili, sono partito per l'alta via delle Dolomiti Bellunesi che avevo su un 16-17 chili e sarò sincero, mi ha veramente stupito. Il non si sente per nulla sulle spalle tutto questo peso. In giorni di cammino non ho avuto nessun male né alle spalle né alla schiena e nemmeno sulla fascia lombare. Che dire, è una tecnologia davvero funzionale che ci permette di poter portare tanto tanto carico. Restando sul fascione lombare, cosa vi racconto? Abbiamo due enormi tasche, davvero molto molto grosse, sia a destra che a sinistra, e ci si può tenere dentro anche una piccola fotocamera, una mirrorless, senza tanti problemi. E qui iniziamo ad avere la prima parte di personalizzazione, ovvero noi abbiamo uno strap da poter aprire, possiamo far uscire o entrare a nostro piacimento una parte di fascia lombare in più. Quindi la fascia lombare si può allungare, quindi averla di lunghezza maggiore che ci avvolge di più o diminuire, se vogliamo un pochino più piccolo, in base al nostro piacimento. E naturalmente avere una fascia lombare di cui possiamo decidere noi la lunghezza ci porta ad avere sia un comfort maggiore che uno scarico del peso migliore. Per quanto riguarda invece la clip sulla parte anteriore, questa è molto classica, funziona anche a pieno carico, non si è mai aperta, non mi ha mai dato problemi, cosa che secondo me è migliorabile che il cordame che avanza in più ci sballonzola davanti ai piedi, una fettuccia per richiudere, lo sarebbe stata molto gradita. Veniamo ora a parlare degli spallacci, spallacci che hanno una sezione non tanto grossa, sono abbastanza piccoli, però sono veramente molto molto imbottiti e anche qua troviamo la possibilità di andare a regolare a nostro piacimento la lunghezza dello spallaccio, quindi non solo l'altezza, quelle classiche fettucce, ma proprio la lunghezza, noi possiamo andare a decidere ad avere uno spallaccio più lungo che ci scenda di più sul petto o meno lungo che resta un pochino più in alto sulle spalle. E anche qua secondo parametro che possiamo andare a regolare a nostro piacimento. Sugli spallacci cosa troviamo? Beh, classica chiusura della parte alta, quindi sulla parte pettorale, che però non ha la parte tensionata e questa si può alzare e abbassare su una slitta in base al nostro piacimento e poi sempre apprezzato di osprei è la possibilità di andare a riporre i bastoncini sulla parte alta, quindi possibilità di riporli mentre camminiamo e riprenderli molto facilmente, dove qui sullo spallaccio sinistro andiamo a inserire la parte sommitale del bastone e qua in basso invece c'è la parte dove andare a inserire il puntale. Continuiamo la nostra recensione andando a girare lo zaino da questa parte e inizio a parlarvi del segmento laterale. Come vi dicevo, beh, qua in basso abbiamo la parte solamente sulla sinistra dove andare a riporre il puntale del bastoncino. Abbiamo una prima clip che è composta a triangolo che va a chiudere lo zaino. Allora questa qua mi piace e non mi piace nel senso del solito problema che passando sopra la tasca ci va a chiudere un po' la possibilità di andare a mettere magari degli oggetti lunghi oppure se vogliamo mettere dentro la borraccia e mantenerla un pochino lenta, solita roba purtroppo. Per quanto riguarda la borraccia questa è facilmente estraibile senza chiedere aiuto quindi possiamo riporla e renderla autonomamente e naturalmente sulla parte dove possiamo infilare la borraccia c'è anche l'apertura superiore se vogliamo mettere qualcosa di lungo, il bastoncino della tenda, un cavalletto. Questa fettuccia funziona molto bene se tirate perché tende a far avvicinare lo zaino con la fascia lombare e quindi ad aumentare ancora di più lo scarico del peso. Per quanto riguarda poi la parte superiore abbiamo sia a destra che a sinistra possibilità di andare ad aprire lo zaino. Possiamo aprire lo zaino per andare a recuperare degli oggetti magari posti nella parte inferiore molto velocemente ed è molto apprezzato il fatto che sia l'apertura sia da un lato che dall'altro. Infine come ultima regolazione abbiamo la classica fettuccia nella parte superiore da poter tirare per andare un pochino a diminuire la grandezza dello zaino se lo utilizziamo un pochino vuoto. Continuo girandovi lo zaino e qui iniziamo a parlare anche delle tasche. Allora per quanto riguarda la tasca inferiore questa è unibile insieme alla tasca superiore perché c'è semplicemente dentro un pezzettio di tessuto che si può benissimo allentare e si può utilizzare lo zaino completamente come tasca unica. Nella parte inferiore come vi dicevo abbiamo la classica tasca dove andare a riporre magari tenda, sacca o pelo o materassino. Non è tanto grossa comunque non 0,50 litri non viste di più grosse però una tenda ci sta tranquillamente e nella parte esterna invece troviamo le classiche fettucce dove andare a riporre ad esempio una tenda o comunque del materiale aggiuntivo posto all'esterno. Salendo troviamo le clip dove poter andare a rimettere il puntale del bastoncino e nella parte superiore all'interno della fettuccia che vi ho fatto vedere prima si può andare a riporre la parte superiore. E continuando arriviamo a parlare di questa tasca che è bella sporca perché lo zaino l'ho utilizzato parecchio. È una tasca elastica che sta dentro davvero tanto materiale. Io ci tenevo il kit di primo soccorso più la giacca o comunque il piumino senza tanti problemi. Si attacca nella parte superiore con questa classica clip che non è fortunatamente collegata con la chiusura superiore ed è davvero molto elastica. Arrivati a questo punto continuando a salire arriviamo a parlare del cappuccio o dello zaino. Il cappuccio presenta due tasche entrambe nella parte esterna non troviamo tasche nella parte interna di cui una prima tasca bella grossa ci sta dentro tranquillamente anche una borraccia. E la seconda tasca invece più piccola sopra a quest'ultima dove possiamo farsi stare dentro le chiavi, il portafoglio, diciamo gli oggetti più piccoli. Particolarmente apprezzato il fatto che non ci sia la tasca interna ma che siano due tasche esterne perché ho notato che sono molto più funzionali e molto più semplici da andare a raggiungere anche autonomamente. E sempre nella parte superiore come chiusura troviamo il classico cordino a tirare per andare a richiudere e facilmente apribile con due mani. Non troviamo un secondo cordino per andare a diminuire un po' la grandezza dello zaino se lo utilizziamo un po' vuoto. E una cosa che non mi era piaciuta nemmeno sull'exos troviamo una clip all'interno dello zaino proprio dentro che possiamo andare a richiudere per come dire serrare lo zaino. Però non mi piace perché innanzitutto è all'interno e ogni volta dobbiamo andare aprire e chiudere se vogliamo recuperare qualcosa. Non ha molto senso. Fosse stata all'esterno avrebbe avuto molto senso invece perché ci permette di poter portare materiale aggiuntivo o una corda. Infine per quanto riguarda comparto acqua abbiamo nella parte inferiore la possibilità di utilizzare e estrarre il nostro rain cover che è abbastanza grosso e anche se abbiamo qualcosa all'esterno lo copre senza problemi e all'interno ci sta la classica vescica con la possibilità di far uscire la proboscite sul davanti. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo Osprey Atmos AG50. Questo zaino a me è piaciuto veramente molto. Uno zaino col quale posso portare 16-17 kg e non sentirne il peso sulle spalle e sulla schiena pensavo non esistesse perché mi è già capitato di portare pesi del genere e ogni volta vali assurdi. Quindi questo zaino è particolarmente pensato per chi fa magari cammini molto lunghi, per chi deve portarsi dietro tanti chili, magari tanto cibo, tanta attrezzatura. È uno zaino che consiglio anche a quelle persone che, come dire, non si trovano molto bene con altri modelli. So di persone che, per esempio, prima di trovare uno zaino devo provarne 50 modelli perché non trovano quello perfetto per loro. In questo caso avendo tutto questo tipo di regolazioni sulla fascia lombare e sugli spallacci possiamo adattarcelo in base ai nostri gusti. Quindi se siete alla ricerca da tempo di uno zaino e non trovate mai uno che vi piace al 100%, vi consiglio di provare questo Atmos al G50 perché potrete appunto regolarvelo in base al vostro piacimento. Detto ciò, in conclusione, vogliamo parlare un attimo dei materiali? Parliamone cuciture, cerniere, fettucce, osprei, da questo punto di vista è una garanzia. Questi sono zaini che costano. Questo zaino, se ricordo male, parte da 285 euro, che è un prezzo veramente alto per uno zaino, però ha talmente tanta tecnologia, i materiali sono così buoni che a mio parere ha senso andare a spendere anche tal cifra, perché questo è uno zaino che comprate oggi e lo utilizzate anche per 15 anni senza tanti problemi. Dato ciò ragazzi, io nella speranza di essere stato esauramente risostivo anche per questo video, vi ringrazio per averlo guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!